E' in netto calo la curva dei contagi sia in città che in provincia. Sono 193 i pazienti positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, 60 i pazienti gelesi, 50 a Caltanissetta, non si vedevano questi numeri da mesi. 24 sono i pazienti positivi riscontrati a San Cataldo, gli altri distribuiti per i paesi della provincia. Dimesso dalla degenza ordinaria un paziente di gel è purtroppo deceduto. Ancora si contano i morti un paziente di Mazzarino. Ma per ciò che riguarda il dettaglio sono 46 i positivi ricoverati in malattie infettive, nessun ricoverato in terapia intensiva, sono 3.295 i positivi in quarantena domiciliare. Per ciò che riguarda il capoluogo sono 684 i positivi in quarantena domiciliare e 12 ricoverati. Per ciò che riguarda Gela sono 1.064 i positivi in quarantena domiciliare e 11 ricoverati nel reparto di malattie infettive. 419 i positivi in quarantena domiciliare a San Cataldo, un numero abbastanza alto. 6 sono i positivi ricoverati in malattie infettive.